Non si arresta la scia di incidenti stradali a Milano, ancora ciclisti e pedoni coinvolti, ma non solo. Il primo avvenuto lunedì sera in piazza del Rosario all'incrocio con via Solari. Intorno alle 20 un uomo di 34 anni mentre era in sella alla sua bici sarebbe stato centrato in pieno da un SUV nero, il quale non si sarebbe fermato a prestare soccorso al ciclista, bensì se la sarebbe data a gambe elevate. Nessun testimone ha però visto la scena. L'unico a fornire dettagli dell'incidente è stata la vittima stessa che, non avendo riportato ferite gravi, ha ricordato il colore e la forma dell'auto che l'ha travolta. Il primo a intervenire sul posto è stato un equipaggio del nucleo radiomobile dei Carabinieri che passando in via Solari ha notato l'uomo e la sua bici sull'asfalto. Chiamati i soccorsi del 118, il 34enne è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo. Al momento dell'intervento dei militari era sveglio e cosciente ma ha comunque riportato ferite serie su tutto il corpo. Adesso sono al vaglio della polizia locale tutti i rilievi del caso e a setaccio le videocamere della zona per identificare marca e targa del veicolo per risalire al conducente. Nella mattina di mercoledì un altro incidente invece ha coinvolto un bambino di 6 anni e sua madre in zona Lorenteggio in via Guido Martinelli. I due mentre stavano attraversando la strada sono stati travolti da un'auto, anche in questo caso per fortuna non ci sarebbero stati gravi conseguenze per le vittime. L'ultimo è avvenuto sempre in mattinata nella centralissima piazza Repubblica a Milano dove un'auto si è scontrata con un taxi e si è ribaltata nei pressi di un semaforo. Il conducente, 31 anni, e il tassista di 43 sono rimasti feriti lievemente. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della polizia locale. Da settimane continuano le proteste di ciclisti e pedoni per chiedere maggiore sicurezza per chi si muove in città che sia in auto, sulle due ruote o a piedi. Da inizio anno infatti a Milano hanno perso la vita otto pedoni e cinque ciclisti.